Che vuoi? Anticipazioni L'Isola dei Famosi 2018, le ultimissime novità La nuova edizione dell'Isola dei Famosi si preannuncia ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. Tutto pronto per la nuova edizione del Cancelletto Isola dei Famosi al Via questa sera in prima serata su Canale 5. . Alla conduzione del programma troveremo la veterana dei reality show, Alessia Marcuzzi, accompagnata da due nuovi opinionisti, ovvero, Daniele Bossari, fresco di partecipazione al Grande Fratello Vip, e Maria Veniette, ex opinionista dell'Isola nelle precedenti edizioni. . I naufraghi sono pronti ad iniziare la nuova avventura nella natura incontaminata guidati dall'inviato speciale Stefano De Martino. Andiamo a scoprire le ultimissime anticipazioni flash. I nuovi naufraghi pronti allo sbarco sull'Isola dei Famosi. . Come di consueto i naufraghi sono sono stati riuniti un una location poco distante dal luogo dove inizieranno la loro nuova avventura dell'Isola dei Famosi. Lo sbarco dei naufraghi sull'Isola avverrà questa sera stessa in occasione della prima puntata. . I naufraghi che vedremo come protagonisti in questa tredicesima edizione sono, Alessia Mancini, Giucas Casella, Nadia Rinaldi, Bianca Azzei, Francesco Monte, Filippo Nardi, Eva Enger, Francesca Cipriani, Jonathan Cascianian, Cecilia Capriotti, Craig Warwick, Nino Formicola, Amauriz, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Chiara Nasti e Rosa Perrotta. . Un naufrago non famoso si unirà ai naufraghi VIP. Come ben saprete pochi giorni fa si è svolto in mini-reality saranno i solani dove hanno partecipato 10 aspiranti naufraghi non famosi. . Al termine della loro avventura nella Maremma Toscana il pubblico da casa ha scelto tre aspiranti naufraghi, che sono, Franco, Dejanira e Valerio. . Soltanto uno dei tre questa sera stessa si unirà al resto dei naufraghi come concorrente ufficiale. . L'esito del televoto finale che decreterà quindi in vincitore di saranno i solani verrà svelato questa sera in diretta tv dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. L'appuntamento con i Daytime. . . Infine vi informiamo che anche quest'anno sarà possibile seguire quotidianamente l'esperienza dei naufraghi con la striscia dedicata ai Daytime che andranno in onda in diverse fasce orarie sulle reti Mediaset. . Potrete rivedere i Daytime e le puntate andate in onda anche in streaming collegandovi al sito ufficiale dell'Isola dei Famosi. . Siete contenti del nuovo cast dell'Isola dei Famosi? Siete liberi di esprimere la vostra opinione lasciando un commento nell'apposito spazio sottostante? . Per rimanere informati su altre news riguardanti l'Isola dei Famosi, video, seguiteci su Blasting News. .